Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, 3 km di coda per un incidente tra Calenzane e B1 variante in direzione di Bologna. Prudenza inoltre per pioggia, sempre in A1 tra Chiusi e Ceprano, in A12 tra Pisa e Rosignano e su gran parte della regione. Infipili rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze e Scandicci verso Firenze in carreggiato opposto a coda in uscita SGC Scandicci. Con lo sguardo al traffico navale per maltempo sono cancellati i traghetti Piombino-Cavo delle 8.40, delle 12.20, delle 14.55 e delle 17.35. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo che per lavori di pavimentazione stradale all'altezza di Villa Salviati, in via Salviati, da quest'oggi fino al 30 aprile sono previsti restringimenti di carreggiata e un senso unico alternato con movieri in orario 10.16. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!